Dopo una lunga estate, con in mezzo un addio per accasarsi a Martina, Ivan Speranza torna a Teramo per rafforzare la difesa bianco-rossa in vista della prima di campionato. Qui ci sono rimasto il cuore, poi per varie cose sono andato a Martina e quando ho avuto l'opportunità di ritornare non ci ho pensato su due secondi. Ovviamente quest'estate sarà rimasto in contatto con alcuni tuoi compagni, che squadra ritrovi? Sì, oltre ai compagni avevo dei grandi amici, quindi sono rimasto sempre in contatto, soprattutto con Bucchi. Una squadra è un mix tra giovani, come si sa che in questa Lega Pro ci sono molti giovani, però è un mix tra giovani e grandi, penso molto validi, in cui si può fare molto bene anche in seconda divisione. Che ti ha detto mister Cappellacci? No, niente, il mister mi ha sempre voluto anche quest'estate per la riconferma, quindi mi metto subito a disposizione sua e poi sarò lui sempre a decidere. Una curiosità, domenica si va a Melfi, nemmeno a farlo apposta, tu al Melfi domenica scorsa hai segnato in Coppitalia, che squadra è? Sì, ho segnato, ho accantonato già quella partita, però è una buona squadra da non sottovalutare, una squadra che comunque grazie al suo mister gioca un buon calcio, cerca di giocare sempre palle a terra, quindi non è da sottovalutare. Grazie. Grazie. Grazie.